Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, oggi vi presento un nuovo autore. Oggi vi parlerò di Emil Durkheim, uno dei padri nobili della sociologia. A mio avviso già Marx getta i semi per la nascita della sociologia, però Emil Durkheim è colui che compie proprio l'atto fondativo della sociologia. Emil Durkheim infatti individua l'oggetto di studio della sociologia e il metodo di studio. Pertanto la sociologia viene strutturata da Durkheim, sociologia che poi nel XX secolo dispiegherà le sue ali, divenendo una delle discipline principali per quanto concerne lo studio dell'uomo, delle società, per quanto riguarda lo studio proprio dei nostri tempi. Dunque la sociologia come disciplina più che mai orientante, apprente, significante nel corso del XX secolo. Emil Durkheim nasce nel 1858 e morirà nel 1917 in piena prima guerra mondiale. Nasce una famiglia ebraica e suo padre ha una grande influenza su Durkheim. Pai Durkheim è un uomo dai forti valori etico-morali, questi valori etico-morali richeggeranno Durkheim per tutta la sua vita, richeggeranno Emil proprio per tutta la vita. Studia filosofia, insegnerà filosofia a Bordeaux fino al 1902, quando diventà titolare della cattedra appunto di filosofia sociale presso la Sorbona. E' una però carriera anche poi con delle ombre, perché l'inimicizia franco-tedesca creerà delle tensioni, in modo particolare perché le origini anche tedesche di Durkheim peseranno e dunque il scoppio del Prima Guerra Mondiale marginalizzerà il mondo particolare Durkheim. Non solo scoppio del Prima Guerra Mondiale, ma già gli anni precedenti, lo scoppio del Prima Guerra Mondiale, creeranno degli ostacoli alla carriera universitaria di Durkheim. Ma veniamo al pensiero, morirà a causa di un ictus nel 1917. Vi diamo un po' il punto di partenza. Che cos'è la sociologia? Perché in Durkheim abbiamo almeno quattro presupposti per fondare la sociologia, quattro enunciati che proprio indirizzano la nuova disciplina, la disciplina sociologica. Durkheim comincia con il dire 1. La sociologia non è una filosofia della storia, la sociologia non va alla ricerca delle leggi della storia, come Gian Battista Vico, come Hegel, come Marx, non è dunque una filosofia della storia che cerca di individuare le leggi del progresso umano, del divenire storico umano. Prima affermazione. 2. La sociologia non è una metafisica, dunque non si può chiedere alla sociologia di definire l'essenza della società. La metafisica studia l'essenza, la metafisica è la disciplina dell'essenza, l'essenza massima che la metafisica ha sempre cercato di definire, di trovare, di mostrare, è Dio. Ebbene, la sociologia non è una metafisica, dunque non vuole trovare l'essenza della società. E poi ancora, la sociologia non è una psicologia, non è una psicologia, ma non è neanche filosofia, non si occupa qui dunque di individuo, di psiche dell'individuo, dell'agire individuale, delle cause dell'agire individuale, neanche compie concettualizzazioni di stampo filosofico. No. La sociologia, inoltre, non è la scienza prima, non è la scienza prima, cioè una scienza che vuole stare alla base di tutto il sapere, com'è la scienza per Comte, la sociologia per Comte è una scienza prima. No, per Durkheim non è una scienza prima che vuole stare alla base di tutte le altre scienze, non è dunque una scienza madre che genera le altre scienze. Non è la scienza prima aristotelica, non è la scienza prima platonica, ma non è la scienza prima, in questo caso, Comte, Anna, non è la sociologia, la madre di tutte le altre scienze che genera, guida, governa tutte le scienze. Queste premesse, cioè che cos'è, cosa non è la sociologia, sono indispensabili per poi definire che cosa è la sociologia. La sociologia è una scienza, tra le scienze possibili, ed è una scienza che indaga, che cosa? I fatti sociali, indaga i fatti sociali, analizza i fatti sociali. I fatti sociali sono l'oggetto della sociologia, dunque i fatti sociali, non i fatti biologici, i fatti sociali, non i fatti della medicina. Dunque non è la sociologia la medicina della società, è una scienza medica della società, non è una scienza biologica della società, ma si occupa di analizzare i fatti, i fatti quali? Quelli esteriori, i fatti esteriori nella società, nella scuola, nei luoghi di lavoro, nella città, nella famiglia, non dunque i fatti interiori, gli eventi psicologici, perché non è psicologia, ma si occupa dei fatti esteriori, dunque dei fatti collettivi. La sociologia studia i fatti sociali che sono un corpo collettivo, il corpo collettivo della società. Di questo si occupa la sociologia. Nell'Ottocento assistiamo veramente a un ulteriore proliferare di nuove scienze, così come all'inizio della modernità, nel Cinquecento e nel Seicento, nuove scienze si distaccano dalla filosofia diventando autonome. Così nel corso dell'Ottocento nuove discipline, la psicologia, la sociologia e l'antropologia su tutte, si distaccano dalla filosofia e diventano scienze autonome, con un metodo e con un oggetto studiato. L'analisi, il raccogliere i dati, il comparare i dati, lo studiare i dati, saranno una modalità operativa della sociologia, ma quali sono questi dati, questi oggetti studiati? I fatti sociali. I fatti sociali come? Ovviamente come corpo collettivo. E dunque bisogna studiare i modi, gli atteggiamenti sociali, il corpo collettivo sociali, i comportamenti sociali, i fatti sociali. E dunque studia l'azione sociale, l'agire sociale. E differenzia, Durkheim, due tipologie di agire sociale, di azione sociale. Abbiamo l'agire normale e l'agire patologico. L'agire sociale ha sempre a che fare con fattori di coercizione, dice Durkheim. Questi fattori di coercizione dentro cui noi siamo inseriti determinano il nostro agire. E tutte le azioni che sono maggioritarie, che sono generalizzate, adottate dai più, noi tendiamo a definire le azioni normali, va bene? E dunque scendo in strada, gli metto alla fermata del bus, la metropolitana, arriva, salgo su la metropolitana, oblitero un biglietto, un'azione normale. Sulla fermata del bus, salgo camminando sulle mani, sul bus, ho deciso di camminare all'indietro, di gridare tutto il tempo e cantare ad alta voce, non è un comportamento considerato normale. Poi sono gli comportamenti, le azioni sociali, sempre in un contesto di, ovviamente, fattori di coercizione, che non sono adottati dalla maggioranza, non sono generalizzati e vengono definiti appunto patologici. A questo punto vi presento due grandi opere di Durkheim per capire come poi procede la sociologia, come si struttura la sociologia, come e cosa studia la sociologia, come studia e cosa studia la sociologia. E le due opere in questione sono della divisione del lavoro sociale, analizza come è cambiato il lavoro dalle società più tribali, arcaiche, alla società moderna e industriale, borghese, capitalistica, e poi il famoso studio sul suicidio, l'analisi del suicidio di Durkheim, che ancora oggi rimane il più grande, completo, accurato studio sul suicidio. Partiamo dalla divisione del lavoro sociale. Durkheim comincia con il dire che nel mondo appunto semplice, nelle società meglio semplici, il lavoro non è diviso, è molto segmentato, c'è un patrimonio di valori, di idee comuni, ci sono dei legami consanguini molto forti, c'è un'economia molto semplice e dunque la divisione del lavoro è minima, dal raccoglitore, cacciatore, dal distributore, raccoglitore, dal trasformatore, ci sono poche, poche, pescatore, cacciatore, poche divisioni del lavoro nelle società semplici e questo fa sì di fatto che la solidarietà sia un qualcosa di meccanico, meccanico, un meccanismo sociale. Io pesco, tu cacci, tu hai coltivato, tu hai raccolto, tu hai allevato i nostri figli, va bene, tu ti sei occupato della casa, dunque poca differenzazione nel mondo del lavoro, sono semplici, coese, segmentate in maniera appunto semplice e le pratiche di solidarietà sono dunque meccaniche, sono costitutive, naturali, di quel modo di essere socialmente aggregati. Ma con il complicarsi la società, con il progredire anche delle organizzazioni sociali e nella società moderna dunque quel tipo di divisione del lavoro minima, 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 scompare e si arriva alla divisione sempre più forte del lavoro. Contadini, artigiani, ma poi operai, mercanti e via via, costruttori, rilaboratori e poi dopo tutte le varie professioni, il medico, l'avvocato, il notaio, appunto il commerciante, il contadino, l'operaio, ma qua il metalmeccanico, il siderurgico, il metallurgico e poi nel tessile e poi ancora il postino, il ferroviere andiamo, e poi il medico, l'infermiere, il chimico, la società articolata, complessa e poi chi si occupa di trasportare, chi si occupa di raccogliere, di distribuire la società articolata e la banca e la fabbrica, l'officina, la segretaria, il segretario, l'operaio, il capo azienda, il responsabile del magazzino, è una società articolatissima. In questa società ci sono le specializzazioni che sono funzionali. Dentro una fabbrica tante funzioni, dentro una città tante funzioni, dentro una scuola tante funzioni, dentro un ospedale tante funzioni, dentro un esercito meccanizzato, tecnologico, tante funzioni. Dunque c'è la divisione del lavoro che è funzionale al funzionamento della società, società scuola, società quartiera, società ospedale, società fabbrica, società nel suo insieme. In questa divisione del lavoro, in questa profonda, radicale divisione del lavoro, ovviamente quel tipo di solidarietà meccanica, quei tipi di legami che naturalmente si creano non sono più presenti. La solidarietà diventa organica. Perché? Perché nessuno più è indipendente, tutti dipendiamo da altri, c'è una dipendenza reciproca, una dipendenza reciproca, le nostre vite dipendono dal lavoro di altri, dunque un aggregato di dipendenze, non c'è più nessuno indipendente, la società dunque diventa un coso di organico, come il corpo umano ha bisogno delle funzioni del pancreas, della milza, del fegato, dei polmoni, del cuore, dei reni, quindi una società ha bisogno delle varie funzioni, va bene, di tutti i lavoratori nelle divisioni appunto del lavoro e dunque si passa da una solidarietà meccanica naturale, meccanica a una società dunque lineare, semplice, a una solidarietà organica del tutto in cui ognuno è una funzione della società nel suo complesso e dunque indispensabile agli altri affinché ci sia il funzionamento di società, affinché ci sia l'organismo funzionante, affinché ci sia coesione. Se manca la solidarietà organica la società implode, si disgrega, frazioni, frizioni, tensioni, sino ad arrivare anche all'implosione e disgregazione della società. Dunque la società organica è funzionale e va appunto ricercata ed è una scelta razionale qui c'è Emil Durkheim, è razionale la scelta della società organica perché ci rendiamo conto di avere bisogno per il mantenimento dello status quo, del potere, della mia vita, del mio negozio, del mio quartiere, della mia fabbrica, della mia vita quando scendono in strada è funzionale questa relazione tra dipendenze perché nessuno è più autosufficiente autore, mi alzo il mattino ho la mia capra, faccio un po' di collatte, un po' di formaggio, vi coltivo la cicoria e vivo all'interno di questo nucleo semplice scollegato del mondo. Questa autosufficienza non c'è, non siamo una tribù chiusa, appunto raccoglitori e cacciatori, palafitte, noi stiamo dentro di noi e già in quel tipo di società chiaramente che cominci in parte a differenziarsi c'è bisogno di organizzarsi in maniera razionale, ma è un'organizzazione minima in cui prevale la meccanicità della solidarietà. Invece noi abbiamo bisogno di sceglierla razionalmente prendendo consapevolezza del fatto che non esista più questa dipendenza, indipendenza, non esiste più l'indipendenza ma esiste soltanto una correlazione di dipendenza. A questo punto avendo analizzato, vedete, con un metodo di analisi, di comparazione la divisione del lavoro tra una società tribale, segmentata, semplice e la società moderna, poi industriale, capitalistica, tecnologica a partire dal 600 per arrivare all'800 in cui lui vive passa a produrre un altro tipo di studio ed è il famosissimo studio sul suicidio perché questo legame normale, questa solidarietà organica che tiene insieme la società presenta poi delle anomalie e un'anomalia all'interno della società è colui che si suicida nella società organizzata razionalmente, nella società tecnologica, nella società di relazioni tra dipendenze c'è qualcosa, sono tante cose che non vanno al loro posto, ma balza all'occhio il suicidio e chi è il suicida? Inizia il grande lavoro, dati, 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 cioè fatti sociali, il fatto sociale come corpo collettivo, il suicida e individua appunto tre tipi di suicidi, i favori tre tipi di suicidi di Emil Durkheim. innanzitutto c'è il suicidio altruistico che è il suicidio di chi non vuole più pesare, non vuoi pesare sulla tua famiglia, non vuoi pesare sulla tua comunità, ti togli la vita per non essere di peso e Durkheim dice è tipico delle famiglie nomadi dove gli anziani si tolgono la vita per non sottrarre più risorse alimentari, ad esempio al gruppo, quando tu non vuoi più pesare sulla tua famiglia, sul tuo gruppo di appartenenza, non vuoi più essere di peso allora ti togli la vita per liberare della vita agli altri, per liberare tempo, per liberare spazio, per liberare energia agli altri, per liberare risorse e ti togli la vita e il suicidio altruistico. Poi c'è il suicidio egoistico che è il suicidio invece di chi non pensa agli altri, non lo fa per gli altri ma si suicida per se stesso, si toglie la vita non per una ragione precisa e terminata, va bene, riconducibile alla collettività, alla società ma è una scelta personale di non vivere più di non voler vivere più potremmo dire di non trovare più motivazione di vivere di volersi sottrarre egoisticamente a questa vita io qui non ci sto più non sto più bene non mi va più bene questa vita e io egoisticamente non pensando a null'altro mi trovo la vita tant'è che Schopenhauer all'epoca quando critica il suicidio dice il suicidio è un atto di egoismo pertanto il suicidio avrà forza la volontà di vivere egoistica che guida l'universo e scondanna Schopenhauer il suicidio proprio perché dice non è un atto di rottura rispetto all'egoismo non è un atto estremo di egoismo per Schopenhauer è dunque inutile il suicidio per eliminare la volontà di vivere per Durkheim esiste una seconda tipologia di suicidio che è quello del suicida egoista quello che si toglie la vita perché non ha più di vivere e lui singolarmente personalmente se ne va sceglie l'exit dalla vita individuale personale e poi c'è il terzo suicidio e qui la riflessione di Durkheim è geniale bellissimo lungimirante ed è il suicida anomico cioè il suicidio anomico anomia senza legge a suffisso chiaramente privativo nomos legge è il suicidio anomico che suicidio è ma è il suicidio che non ha una apparente motivazione è il suicidio di chi di fatto non ha più motivazioni di vita è il suicidio di chi non trova più dei valori condivisi collettivi e di chi non trova più un suo posto diciamo in quelle leggi in quella cultura in quella società è il suicidio di chi non si riconosce appartenente ad una comunità mentre è il suicidio egoistico solo per le mie motivazioni per una delusione d'amore per una delusione sul mondo del lavoro perché non ho più voglia di vivere perché sono stanco perché sono deluso no qui è un suicidio di chi si sente estragnato alienato fuori rispetto le regole la cultura i valori condivisi si sente anonimo cioè non ha più un proprio posto è uno smarrimento all'interno di società industriale anonima tecnologico e dunque è una sorta di espressione questo suicidio del non sentirsi più parte di un gruppo la mancanza di legami di valori di senso di appartenenza può portare al suicidio anomico proprio perché non c'è più una legge che mi tiene legato non c'è più un legame valoriale non c'è un senso di comunità non c'è una comunità educante non c'è una comunità lavorativa non c'è una comunità politica non c'è una comunità religiosa non c'è una comunità dentro che io mi senta pienamente dunque l'anonimato sociale mi può portare al suicidio anomico cioè al suicidio di chi di fatto esce proprio perché è espulso è marginale non trova più un modo un suo posto in quel tipo di comunità non riconosce la comunità sente espulso la comunità è marginato e dunque è il suicidio di chi ormai non vive più una dimensione di solidarietà non si sente più in un mondo di legami e cade nella disperazione bisogna prevenire il suicidio in un certo punto soprattutto il suicidio anomico dirà Durkheim nella conclusione di questo suo lavoro straordinario e per evitare tutto ciò bisogna ricostruire i legami i legami sociali e dirà siamo fino ai 800 le religioni stanno tramontando secondo questi studioni questi scienziati poi non sarà così vedremo che nel 900 fino ai 900 le religioni sono tornate con forza anche bisogna vedere come sono tornate che tipo di religiosità è quella che attraversa il nostro mondo il nostro tempo ma dice Durkheim per arrivare a superare il problema del suicidio anomico serve ricostruire i legami quali sono i legami oggi che vanno ricostruiti quelli sociali nei luoghi di lavoro perché non sono più le religioni i luoghi di aggregazione i luoghi che danno senso di comunità di appartenenza che danno una dimensione valoriale in cui si può ritrovare la solidarietà la condivisione ma è il lavoro dunque il lavoro sostituisce la religione nella costruzione di legami sociali dunque una nobiltà del lavoro una grandezza del lavoro una dignità del lavoro nei luoghi del lavoro si può ritrovare quella dignità senso di appartenenza e la mia domanda è oggi non è che molti dei suicidi tornano ad essere più che per disperazione egoistica più che per non pesare sugli altri tornino proprio per questa assenza di appartenenza di solidarietà di legame di valori ma una disperazione sociale politica collettiva cioè di mancanza di collettività una disperazione perché non mi ritrovo alla qualità mi sento solo abbandonato non è che forse siano queste oggi le motivazioni che stanno dietro a una serie di suicidi che tra l'altro sono in aumento nella nostra società italiana in aumento in tutto il mondo non mi ritrovo non mi ritrovo